Buonasera e ben ritrovati a Sporting Club, siamo nel pieno dei Wimbledon, stiamo parlando di tennis, dopo il Queens è veramente il vero grande slam sull'erba, direi anche l'unico, siamo nel corso tra il secondo e il terzo turno con diversi italiani che stanno andando sicuramente bene su tutti, cioè Berrettini. Apriamo quest'ampia pagina, dando la buonasera e ben ritrovata Francesca, scritto del tempo, ciao Francesca, ciao buonasera, bentrovati a voi, bentrovata a te, in grande forma anche tu da mamma, dobbiamo dire che non è facile questo periodo, possiamo pure dirlo Francesca, dobbiamo che le scuole finiscono, dobbiamo abbarcamenarci. Un periodaccio, periodaccio, lasciamo perdere. Andiamo sull'erba inglese, allora 636476 Berrettini che va avanti, accede al terzo turno battendo l'olandese, mi perdonerete la pronuncia ma è Van de Zandschulp, penso sia questa la pronuncia numero 139 del mondo, è un Berrettini che seppur non abbia brillato comunque ha portato a casa la vittoria e questo è importante, ci si aspetta tanto da questo ragazzo che è attualmente il numero 9 del mondo a 25 anni, insomma, dobbiamo dire che è arrivato un po' il momento di fare le cose sul serio? Sì, questa è la grande prova di Berrettini che dopo la vittoria al Queens arriva carico e soprattutto pronto per poter fare un gran torneo, considerando che sul suo lato di tabellone adesso ha dei nomi abbastanza, non dico agevoli perché poi alla fine agevole è sempre complesso da dire, bisogna giocare, però insomma una strada abbastanza spianata verso la seconda settimana, visto che adesso incontro a Bedene e potrebbe essere la sorpresa di questo torneo con un torneo che non ha Nadal, con Federer ancora a mezzo servizio, l'età avanza, certo c'è Djokovic però sta dall'altra parte del tabellone, può succedere di tutto, insomma Berrettini ha le carte in regola per potersela giocare, per togliersi qualche bella soddisfazione, visto che sull'erba ha riscoperto una superficie che lui due anni fa ha detto di non amare, invece è abbastanza idonea alle sue caratteristiche. Infatti, brava, hai collegato anche un aspetto che volevo affrontare con te, la parte mentale, lui due anni fa ha dato questa dichiarazione, oggi invece si sente sicuramente più pronto, più cresciuto, più maturo forse, anche perché viene da un periodo non molto semplice tra alti e bassi e se mette a posto ovviamente la parte fisica e sta bene, insomma è un giocatore non è perché italiano, ma è un giocatore veramente interessante. Assolutamente sì, è un giocatore, per noi italiani è un giocatore fisicamente anomalo, alto, forte, grosso, non sono caratteristiche abituali, è un giocatore che sull'erba si trova bene perché sfrutta le sue caratteristiche, un servizio potente, un diritto incisivo, è un giocatore che può diventare ancora più grande perché sì è il numero 9 del mondo, però gli serve un pochino di continuità che questo anno non ha trovato anche per l'infortunio che l'ha fermato agli Australian Open, adesso è rientrato in forma e ha bisogno di giocare, la convinzione è arrivata con la vittoria al Queens, quindi tutte le chiavi sembrano giuste per poter scardinare la porta di Wimbledon, non dico che debba vincere il torneo, però insomma togliersi qualche soddisfazione, provare ad andare a giocare con i grandi, come sta facendo? Lo vedi sicuramente più pronto, nel senso che lo scorso anno sul finale di stagione le finals non hanno sicuramente riso a lui, ecco trova la continuità, può anche far scattare questa continuità fisica, parlo qualcosa anche nella coscienza, nella testa, nella consapevolezza soprattutto. Lui io penso sia un ragazzo che ha un bagaglio emozionale molto forte, quindi deve combattere con le sue emozioni, perché è un ragazzo molto concentrato e pensa tanto, e non sempre questa cosa è positiva, cioè nel senso chiaramente lo è, però crea dei blocchi e lui ogni tanto si blocca più mentalmente che fisicamente, chiaramente se il fisico regge, se lui sta bene è un giocatore che può giocare veramente contro chiunque, per sbloccarsi mentalmente bisogna abituarsi a giocare a quel livello, quindi solo giocando si superano questi scogli, quando si prende la consapevolezza di potersela giocare alla pari con gli altri, lui ci sta lavorando, ha 25 anni come hai detto giustamente, quindi è giusto che adesso provi a fare il salto e a sentirsi un giocatore da numero 9 del mondo, numero 5, numero 4, quello che starà. Senti facciamo una panoramica sugli italiani, allora abbiamo parlato di 25 anni, c'è un altro ragazzo che ha 25 anni però ha deciso di smettere, stiamo parlando di Quincy che lui vinse il torneo di Wimbledon categoria Union nel 2013, Luigi Quincy che era esploso, poi ha detto proprio in questi giorni, quando ho capito che non sarei arrivato nei primi cento ho un po' mollato, le pressioni, le aspettative, peccato perché questo ragazzo aveva veramente del talento, tornando su Wimbledon, così ti lascio anche la doppia risposta, tornando su Wimbledon c'è Sonico che sicuramente è andato avanti, ha battuto il colombiano Daniel Galan, ha approdato al terzo turno e poi anche Fognini che insomma ci sta regalando anche lui che insomma di testa dovrebbe mettere sicuramente a posto e quanto dipende la testa di Fognini sulle vittorie o sulle sconfitte di questo ragazzo, vai ti ho fatto un po' una panoramica 360 gradi. Esatto, Quincy purtroppo le pressioni, detto bene, pesano tanto, lui è stato un ragazzo che vincendo Wimbledon Junior è stato caricato di pressioni anche perché non era, quando ha vinto lui non c'era questa esplosione di giovani come c'è adesso, quindi è stato indicato come la nuova promessa del tennis e purtroppo le cose sono andate come sono andate, tutto sommato ha fatto una scelta coraggiosa perché comunque in quanti si ostinano ad andare avanti magari soffrendo psicologicamente pur di dimostrare qualcosa, lui ha fatto un'analisi onesta e non se l'è sentita di proseguire, quindi bocca al lupo a Quincy e speriamo che trovi la sua strada in altri campi. Per quanto riguarda Sonego è un ragazzo che continua a dimostrare la costanza del suo lavoro perché è un ragazzo che si vede che mette in campo quello che prova in allenamento, che lavora con costanza, i risultati stanno arrivando, quindi anche per lui che sull'erba non si trova male per nulla, le prospettive sono rose in questo torneo, ha meno pressioni sicuramente di Berrettini e questo aiuta e poi c'è Fognini che fisicamente sta bene, che è partito bene, Fognini lo vedi dal primo 15 che gioca come può andare a finire la partita, se è la giornata giusta è inarrestabile, ma anche se il suo tennis, se lui si sente, perché poi è quello, se lui si sente in forma, se lui si sente bene, se è carico mentalmente, lo vedi subito e Fognini è entrato bene a Wimbledon, sta giocando bene, fisicamente sta bene, dopo che ha avuto anche lui problemi con le caviglie, si operava per entrambe le caviglie, insomma una cosa un po' complessa, adesso fisicamente ha ripreso e quindi Fognini può vincere con chiunque e perdere con chiunque, è la storia della sua carriera. Senti Fra, hai detto più di occasione e hai ragione, l'erba non si confà a quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, però ti chiedo, visto che è veramente una tappa del circuito mondiale molto particolare, perché a parte il Queens che ha vinto Berrettini l'ultimo e appunto Wimbledon, non ce ne sono altre tappe sull'erba, però che si avvicina più a un veloce, a un veloce un po' più lento, non lo so, senza una superficie dura o più lenta, perché alla fine non è che tutti, a parte forse Madrid che ha vinto anche Londra come Olimpiade, penso che ci siano le caratteristiche sull'erba, pochi si possono allenare sull'erba, questo va in generale, è una domanda molto generica. Sì, diciamo che qualche torneo c'è ovviamente, la stagione sull'erba è molto breve, le caratteristiche, se tu ci fai caso, le partite sull'erba durano abbastanza, in proporzione meno delle altre partite, perché i punti sono piuttosto veloci, quindi se tu chiudi il punto rapidamente è normale sull'erba, tant'è che oggi Magar ha perso tre sette in un'ora e mezzo, un'ora e trenta sette, contro Kyrgios che è uno che sull'erba fa le magie, perché puoi giocare anche se non sei allenato al top, se la tua condizione fisica non è straordinaria, sull'erba riesci a trovare una soluzione, perché i punti si chiudono rapidamente, gioca bene sull'erba chi ha comunque, che sfrutta la potenza, la velocità, è una superficie molto più veloce rispetto alla terra, poi come sulla terra, anche sull'erba, ogni erba è diversa dalle altre, quindi l'erba del Queens non è l'erba di Wimbledon, ci sono state le polemiche in questo periodo perché scivolano molto i giocatori, perché ha piovuto tanto in questi giorni e quindi se scivola, l'erba è particolare, è affascinante, Wimbledon è sicuramente la tappa di Slam più affascinante di tutte, diciamocelo, però è una superficie particolare, vedo le immagini sotto di… E l'hai infatti centrato l'argomento, perché qui è accaduto sicuramente Djokovic, ma un'altra caduta, ben più che ha portato a conseguenze più gravi è stata quella di Serena Williams nel corso del primo turno contro la bielorussa Sasnovic, che le è costata questo infortunio muscolare alla gamba e niente, veramente maledetto questo ventiquattresimo Slam per Serena Williams che a 39 anni ha dovuto abbandonare la scena. Certo, vedere le lacrime su un viso e su un corpo come quello molto tosto, duro o no, duro di Serena fanno effetto, però ci sta mettendo veramente tutta l'anima per riuscire a conquistare qualcosa di unico, ovvero appunto il ventiquattresimo Slam, però non è più quella di una volta, l'età avanza. L'età avanza, sicuramente, lei è messa in testa che vuole vincere uno Slam, un torneo, un mille dopo la gravidanza, lei ha vinto il suo ultimo Slam agli Australian Open quando era già incinta di qualche mese, un mese, due mesi della figlia Olimpia e ha scelto di continuare per dimostrare che le mamme possono ancora competere, possono essere competitive. Wimbledon, come sai, ha un sapore particolare, lei l'ha lasciato due anni fa perdendo una finale con l'amaro in bocca, quindi la sensazione che aveva era quella di poter tornare e provare a riprendersi qualcosa. Al momento, lo dico con grande tristezza, mi sembra difficile che possa riuscire a centrare questo suo obiettivo. Però vedi, ha dato comunque un messaggio positivo, che le mamme possono tornare e possono tornare sicuramente a vincere, l'ha fatto anche l'Avezzali, l'hanno fatto veramente in tante, anche nello sport italiano, sicuramente. Certo. Tu niente, non ti rimetti il kimono da ex judoka. Il kimono e quantoni no, 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 no. Sei stata una grande atleta, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo dire. Hai mollato qualche anno fa, però sei stata una grande atleta sul tatami, giusto si dice? Sì. Sul tatami, va bene, va bene. Senti, come invece giornalista, torniamo a quello che è ovviamente il tema attuale, quello ovviamente di Wimbledon. Parliamo di Djokovic, che sta andando sicuramente bene, ha vinto Roma, si sta lanciando secondo te verso Tokyo questo giocatore, perché Feder non così così, c'è sicuramente Tim, c'è Zizipas. Poi c'è anche il discorso Nadal, punto interrogativo, se riuscirà a tornare in forma. Com'è? Allora, sì, Nadal ha già detto che alle Olimpiadi non andrà, Djokovic, Olimpiadi sicuramente, ma sicuramente gli slam, perché l'obiettivo è quello di raggiungere Nadal e Federer e di superarli, diventare l'atleta, il tenista che ha visto più slam in assoluto, quello è l'obiettivo. L'ha dichiarato varie volte e sta dimostrando che a quello vuole puntare, anche perché gioca con continuità di slam. Il resto lo misura, lo centellina anche lui, in base alle sue condizioni, in base alla sua condizione ottimale. Quindi Djokovic ci sta provando e probabilmente ci riuscirà, anche perché è più giovane degli altri due e oggi ancora è il più forte del mondo. Senti, Francesca, a parte gli scherzi, sei stata veramente una grande atleta e quindi hai indossato il kimono azzurro, quindi sai che vuol dire. Per un atleta di grande livello, penso che partecipare all'Olimpiade sia qualcosa di unico, il massimo, no? Noi l'altra settimana abbiamo avuto qui Martina, anzi martedì, pardon, abbiamo avuto Martina Caramignoli e dopo i bronzi europei ha detto che per me il sogno più grande è andare sicuramente a Tokyo, parò il mio massimo, però per me è tutto. Cioè li senti, no? Parlare questi atleti che magari in generale, no? Già il fatto di andare è comunque una grande conquista. perché secondo te da alcuni viene un po' snobbato oppure viene in un secondo piano? Perché forse uno slam ti fa guadagnare punti, ti fa guadagnare più soldi? Non lo so, chiedo a te anche per un confronto, io ancora non lo riesco a capire. Allora, intanto ti smentisco e ti dico io indossavo i guantoni e non il kimono perché facevo ma io tu scusa. Comunque, subito, no, figurati. No, tornando seri, l'Olimpiade è sicuramente l'obiettivo massimo di un atleta. Poi dobbiamo anche andare a analizzare che tipo di sport, perché probabilmente l'obiettivo massimo di un atleta che non gioca a calcio, che non gioca a tennis e probabilmente anche che non gioca a basket. vogliamo dire che insomma queste sono più o meno le categorie dove un pochino si perde questa cosa. Nel caso di Nadal, Nadal ha già vinto un oro olimpico, quindi ha un'età, sta programmando il suo futuro, ha avuto un infortunio e preferisce conservarsi e ritrovare la forma giusta per poter competere. Se pensi che Federer sta puntando quasi tutto sull'Olimpiade perché è l'unica medaglia d'oro che gli manca in singolare, capisci bene quanto è importante anche per i tennisi che guadagnano cifre spropositate e per cui l'Olimpiade è solamente una cosa d'onore, di gratificazione, è un'esperienza unica. Cioè è chiaro che se magari andiamo a chiedere a chi fa karate, a chi fa ginnastica artistica o chi fa nuoto, probabilmente l'Olimpiade è l'obiettivo massimo. Sicuramente si karate che entra di fatto per la ma volta all'Olimpiade questa Tokyo. Sì esatto. Ecco, e questo sì, sicuramente i calciatori a parte, questo lo mettiamo, però qualcuno anche alla nazionale di basket che ha iniziato anche male il preolimpico, insomma hanno rifiutato la convocazione perché per acciacchi fisici, questo insomma adesso divagliamo un pochino, però qualche senatore, qualche big, insomma qualcuno sta facendo ancora i playoff in NBA, però qualcuno che sta qua, questo è un peccato, un peccato perché la maglia azzurra è sempre la maglia azzurra, andare all'Olimpiade per me è un vero fascino, però la tua analisi la condivido soprattutto su Natale che già ha vinto qualcosa e vedete Federer ha vinto tutto, è stato per anni numero uno, manca proprio quella medaglia in bacheca e sta cercando di tutto per farla. Andando sul femminile, abbiamo toccato per un attimo Serena Williams, la Georgie stava andando bene e ancora non riusciamo, invece è uscita, non riusciamo a spiccare con le italiane, cosa che invece fino a qualche anno fa era completamente il contrario, andavamo molto bene nel tabellone femminile e male in quello maschile. Sì, diciamo che c'è questo cambio generazionale, è tolta la Georgie che ormai l'età per fare quello che doveva fare ce l'ha, quindi insomma se avesse dovuto diventare un atleta di vertice del tennis ha avuto l'occasione per farlo e purtroppo mi sento di dire che l'ha mancata con i mezzi fisici che ha, la sua tecnica, una giocatrice che veramente avrebbe potuto stare tra le prime 15, 10, 15 del mondo, ma insomma in femminile sappiamo come sia rapida l'ascesa e la discesa delle giocatrici, per il resto chiaramente il ricambio di generazione non è stato così rapido e così efficace come è successo nel maschile, però quando le donne stavano al top c'era Fognini e poco Setti e poco altro, quindi mi sembra che il movimento tennis stia andando molto 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 bene e sulla parte femminile ci sarà da lavorare ancora, insomma la cosa positiva, mettiamola così, è che sul femminile ci sono anche i margini di crescita, mentre sul maschile è difficile fare meglio di come si sta facendo adesso. Io ho detto più di una volta, a me questa è una delle squadre più forti che abbiamo avuto, comunque una generazione più forte in assoluto perché abbiamo avuto per tanti anni dei buoni giocatori, oggi se pensiamo praticamente che magari Soneco non rientra nella Coppa Davis è incredibile perché ne abbiamo sicuramente in classifica generale, ne abbiamo qualcuno che sta più avanti e lui è un giovane che fino a qualche anno fa sarebbe entrato di diritto appunto nella squadra italiana. Però questo è, mi affido sicuramente a te. Senti l'ultima, Djokovic quindi favorito o vedi che qualcuno può insidiare questo primato? o questa vittoria? Sì, assolutamente sì, Djokovic favorito, però Wimbledon non è mai stata vara di sorprese, quindi restiamo a guardare e speriamo che Berrettini possa arrivare il più avanti possibile e magari potrebbe essere anche lui la sorpresa, perché no? Del resto chi vince il Queens è il favorito di Wimbledon a quello che dicono gli inglesi. Vedi, questa non la sapevo. Francesca grazie, ci ritroviamo sicuramente a breve, dai, ti ridisturbo. Grazie a voi ragazzi, buona serata. Buona serata, un bacione a tutta la famiglia, grazie a Francesca Scrito, è il tempo arrivata un'ultima ora alla richiesta della Serie A, Stati Aperti con Green Pass, vado a leggere, esalta l'ipotesi spezzatino, noi stiamo parlando ovviamente di calcio di Serie A, un nuovo grido d'allarme si alza all'Assemblea di Lega, le società lamentano uno stato di crisi non più sopportabile, questo è un comunicato causato in particolar modo dalle perdite economiche subite per l'assenza degli spettatori negli Stati nelle ultime due stagioni sportive. Per far ripartire il prossimo campionato e non disattendere il desiderio di 38 milioni di appassionati, i club di Serie A all'unanimità richiedono con la massima urgenza un incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi, con il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e con il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. Quali sono le richieste? spiegano i club di aver subito un danno di 1,2 miliardi di euro per colpa della pandemia e di voler trovare di concerto con il governo soluzioni idonee e soluzioni per il danno finora subito. Le modalità per favorire il totale ritorno del pubblico sugli sparti sin dalla prima giornata della prossima stagione, in piena sicurezza per i tifosi e completando l'utilizzo del passaporto vaccinale, quindi praticamente il ritorno. E poi il no, l'ipotesi spezzatino che si diceva per colmare il gap a punto di vista della banda, cioè mi spiego Dazon che sarà proprietario di diritti per le prossime tre stagioni, dal 2021 fino al 2024, trasmetterà 7 delle 10 partite, ha proposto di spezzettare praticamente tutte le partite in modo che a ogni orario corrisponda una sola partita, proprio perché l'afflusso di spettatori possa intasare la banda e quindi creare un sovraccarico di utenza e che la partita non si possa vedere. In questo momento la Lega ha risposto che quest'ipotesi dello spezzatino al momento è congelata ed è da annullare. Si valuteranno nuove ovviamente ipotesi, nuove soluzioni per poter permettere appunto una visione a tutti. Sicuramente non finisce qua, ci sarà ancora da tornare su questo tema e su questo tema praticamente Mediaset strappa la Coppa Italia alla RAI e per la Lega è un balzo del più 27% di incasso, stiamo parlando ovviamente sempre di diritti televisivi. Questo anche per darvi un quadro di quello che è successo in ultima ora che vi abbiamo letto. Noi ci fermiamo, a rientro parliamo ancora di canottaggio, parliamo di calcio, un calcio sociale, solidale e integrato. Linea alla regia pubblicità.